Una delle zone paesaggistiche più suggestive dell'intero litorale ionico salentino è la montagna spaccata, presso la località La Reggia, situata sul tratto di costa che da Lido con Chiglie conduce a Santa Maria al Bagno, un'area naturalistica di indubbia bellezza paesaggistica La costa rocciosa, ma ricca di numerosi punti di accesso al mare, è caratterizzata da piccole grotte più o meno sommerse e di origine carsica e dalla presenza di specie corallifere di varia natura, che nel tempo purtroppo l'uomo ha contribuito a distruggere Tale stupefacente variabilità strutturale e faunistica rende La Reggia un vero tesoro naturale alla luce del sole, un luogo dove il silenzio e la riflessione rappresentano i punti cardine di chi vuole godersi tale spettacolo e vivere per un momento una stretta simbiosi con la natura costiera Grazie a tutti!